Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche questa settimana sul mio canale. Per l'ultimo giorno dell'anno ho deciso di proporvi un nuovo format che se poi avrà successo avrà un seguito. Il format si chiama Quadri Elettrici da Incubo. Io vi ho preparato una porzione dell'impianto elettrico formata dal collegamento tra contatore e un piccolo quadro elettrico commettendo gli errori più grossolani che potete trovare nei peggiori quadri elettrici che al momento sono installati in Italia. Vado a stringere con l'inquadratura in modo che possiate guardarlo più nel dettaglio. Il quiz, diciamo questo piccolo gioco, consiste appunto nel andare a scoprire quelli che sono gli errori che sono stati commessi nella configurazione di questo quadro e poi lasciarmi la lista nei commenti. Con questo test potete andare a mettere alla prova le vostre conoscenze in materia di elettricità. Mi farebbe molto piacere se anche grazie al mio canale aveste raggiunto una maggiore consapevolezza. Ho pensato anche che potrebbe essere utile magari ai proprietari di casa ma anche agli inquilini che prendono un appartamento in affitto sapere quelli che sono gli errori più grossolani che possono trovarsi all'interno dei quadri elettrici di casa. Magari facendo un confronto con varie simulazioni e varie ipotesi uno potrebbe avere magari davvero la voglia di chiamare l'elettricista per far mettere tutto a posto. Prima che mi dimentichi volevo dirvi che ho attivato la vetrina di Amazon per il canale YouTube dove potete trovare con un colpo d'occhio tutti i prodotti, materiali e gli strumenti che ho utilizzato durante questi due anni. Trovate il link in descrizione. Ora vi stringo l'inquadratura in modo che possiate vedere più nel dettaglio ogni singolo particolare del quadro e cimentarvi in questo piccolo gioco. Contatore vicino al quadro elettrico con un montante di non più di 20-30 cm di lunghezza. Il montante si collega a questo generale, il generale poi attraverso questi due pettini distribuisce tensione a tutti questi magnetotermici che poi portano tensione a tutto il resto di questo impianto simulato. Poi chiaramente ho portato anche il filo di terra che va a collegarsi a questa piccola morsettiera unipotenziale. Lasciate i commenti su quelli che sono gli errori che individuate. Poi settimana prossima nel prossimo video vado a rispondere a tutti quanti i commenti e vi dico quelli che sono gli errori che sono stati commessi in questo quadro. Noi ci vediamo l'anno prossimo, al prossimo video sempre in tema di quadri elettrici. Un saluto a tutti! 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 Un saluto a tutti!